bello a tutti, devo rifare questo video perché ho avuto un problema prima poi vi lascerò anche il link in descrizione del mio proprio di google plus andate a visitarlo, iscrivetevi abbiamo immaginato un po' di iscritti, qualche tipo di mestrimone mezzo fa ero 57 iscritti, adesso sono 63 quindi buono iscrivetevi, continuate per iscrivere che così arriviamo a 100 iscritti e che dirvi stasera alle 8.45 ovviamente vedo se riesco la seguo la partita si giocherà appunto Roma-Benevento e appunto oggi sono qua per dirvi qualche cosa allora appunto che pure le formazioni qualcosa così allora intanto la Roma appunto adesso è quinta però non ha ancora giocato la Roma appunto e l'Inter non ha ancora giocato né la Roma né l'Inter ancora e la Lazio ieri ha perso però visto che noi non abbiamo giocato allora siamo ancora terza Lazio, quarto Inter, quinta Roma però se la Roma dovesse vincere però se la Roma dovesse vincere e l'Inter perdere la Roma andrebbe praticamente da 44 a 47 visto che la Lazio si trova a 46 perché ieri ha perso l'Inter a 45 la Roma andrebbe sopra e appunto l'Inter andrebbe quinta e invece la Lazio quarta mentre invece sia noi che l'Inter vinciamo andiamo l'Inter terza perché appunto prenderebbe 3 punti e quindi da 45 andrebbe a 48 e noi quarti e poi la Lazio quinta quindi comunque la Lazio molto probabilmente scenderà perché credo che comunque la Roma possa farcela vincere magari l'Inter no però credo che l'Inter anche credo che con un pareggio comunque o lo supera o comunque stanno pari e quarte semmai con un punto e invece noi cioè noi la Roma debbe scavalcare e oggi comunque saranno out molto probabilmente De Rossi perché ho visto probabili formazioni adesso che è l'uno e un quarto quindi non so poi dopo se sarà qualche cambiamento comunque De Rossi dovrebbe essere fuori anche Schick e anche Jonathan Silva che è il giocatore che abbiamo comprato però spero che dalla prossima settimana ci sia perché Kolarov deve rifiatare perché poi in Champions se no chi fai giocare già Jonathan Silva non può giocare in Champions quindi non è che tu puoi dire lo metti in Champions e non lo metti in campionato così è no quindi speriamo che torni e poi pure Nainggolan e Pellegrini perché loro hanno preso il giallo no Pellegrini allora Nainggolan ha preso il giallo ed era diffidato quindi non so bene come funziona comunque questa partita non la gioca solo questa e Pellegrini anche solo che Pellegrini ha preso il rosso quindi diversa però giocheranno tutti e due questa partita qua e allora la formazione partiamo da quella del Benevento così ce la troviamo subito 4-3-3 Pugioni Letizia Jim City Costa Venuti Memushai Sandro Juricic Ghilerm Ghilerm non so se legge così spero di sì Gode e D'Alessandro quindi loro giocano molto simile a quello che hanno giocato con Napoli solo che non praticamente non avranno Cataldi e non avranno nemmeno Brignola e vi dicono sempre che Cataldi è in presidio dalla Lazio va bene e mentre invece la Roma insiste sul 4-2-3-1 cosa che mi sta piacendo perché oramai Di Francesco ha capito che il 4-3-3 non funziona non funziona cioè al massimo guardate pure il 4-3-2-1 forse si poteva fare però 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 non provo perché noi il problema qual è? che a destra a destra a destra non abbiamo l'esterno e poi come terzino deve giocare sempre sempre Fronzi perché abbiamo Cardolp che è rotto e poi c'è stata quella storia con Bruno Peres che non vi sto a dire che sicuramente saprete e quindi 4-2-3-1 con Alisson Florenzi Manolas Fazio e Kolarov e poi i due davanti alla difesa saranno Strotman e Gerson e poi sopra ci saranno come punta Dzeko ovviamente perché Schick sembra che non potrà giocare e poi sotto quindi sotto Dzeko cioè colui che gli deve passare i palloni sarà si chiama Perotti che lui diciamo che è stato sempre un po' trequartista l'anno scorso non ha mai giocato in quel ruolo perché giocava sempre Nengolan però visto che Nengolan adesso non sta cioè non può giocare appunto quindi ci saranno Perotti poi a sinistra esce Raui e a destra invece c'era Under il problema è proprio questo cioè che a destra deve giocare Under che l'altra partita ha giocato benissimo dopo 48 secondi ha fatto gol ma su FIFA non nemmeno ha messo Yiff va bene però vabbè però qual è la cosa che noi non abbiamo una vera ala ala destra quindi non puoi giocare col 4-3-3 perché non è un'ala destra e cioè non è un'ala destra quindi non riesci non riesci bene ad attaccare la proposta cioè metti sempre i giocatori adattati si Under però Under è più esterno è più da quel 4-4-2 capite o cioè o fai un vero 4-4-2 però avendo avendo molti 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 a centrocampo uno dice il 4-4-2 è un po' sprecato perché per esempio non lo potessi far giocare cioè tutto sarebbe solo per far giocare Under quindi non non converrebbe però così comunque va bene l'altra volta ci ha permesso di tornare di tornare al gol e di di poter vincere dopo diverso tempo che o pareggiavamo o perdevamo quindi adesso per fortuna abbiamo usato questo modulo che sembra andare bene visto che lo usavamo pure l'anno scorso e quindi spero che oggi possiamo fare qualcosa di buono e la partita è alle 8.45 ho detto e niente bella ah in descrizione vi metto il link di Google Plus andatemi a seguire e iscrivetevi che così arriviamo prima a 70 e poi 100 iscritti stagione